buongiorno a tutti e a tutti è un piacere questa sera di avere gianfranco cabildo che regista della stoffa dei sogni che proponiamo nel ciclo dedicato ai film sulle piccole isole italiane del ciclo Arcipelaghi buonasera buonasera allora buonasera a tutti cosa mi ha spinto verso l'asinara e quindi ambientare una storia nell'asinara ma sono molteplici casi l'asinara io ambiento i miei film in Sardegna un po' perché sono di origine sarda un po' perché c'hanno degli scenari inconsueti per cui mi regalano la forza di una location appunto in qualche modo inconsueta perché l'asinara? Per due motivi appunto uno è perché è stata un'isola che io appunto sapevo come sapevamo tutti è un'isola carcere stata per 120 anni per cui gli abitanti che erano pescatori anche provenienti da Napoli o dalla Corsica che abitavano quest'isola a un certo punto verso la fine dell'ottocento sono stati spostati sulla costa e l'isola è diventata un carcere di massima sicurezza quindi noi non abbiamo mai visto l'asinara la prima volta che io l'ho vista era diventa appena diventata parco nazionale e quindi dentro questa piccola vicenda storica grossa vicenda storica c'era un tema che comunque è un tema che in Sardegna oppure in generale nelle isole minori è sentito molto cioè quello della colonizzazione di un'isola e quindi dell'idea che un'isola possa venire diciamo insomma spostati gli abitanti e diventare off limits per tutti e quindi c'è una sorta di occupazione questo è un tema che rispetto alla lingua rispetto alle tradizioni hanno le culture minoritarie come anche quella sarda ma la cosa che artisticamente questo arriva diciamo lateralmente perché la cosa che mi ha convinto di più è quando l'isola è diventata parco io l'ho visitata con la curiosità di uno che vede un pezzo che non ha mai visto insomma che era proibito appunto visitando l'asinara mi sono reso conto che assomigliava all'isola descritta da Shakespeare all'isola di Prospero cioè un'isola che anche che grazie o a causa dell'occupazione diciamo come carcere aveva mantenuto una natura ancora selvaggia per cui meravigliosa per certi versi terribile per quanto riguarda l'uso che ne era fatto quindi c'ha tanti carceri dentro sette carceri in giro per l'isola e quindi sono stato subito riportato a un testo come quello della tempesta shakespeariana che io ho incontrato quando ero molto giovane come assistente di eduardo di filippo perché io ho curato la registrazione dove eduardo faceva tutte le voci di tutti i personaggi della tempesta di shakespear tradotti in napoletano antico in napoletano teatrale pensato per essere recitato per cui mi è ritornato in mente il testo mi è ritornata in mente la location a questo punto aveva un doppio significato perché le parole con cui calibano parla al direttore del carcere quest'isola è la mia io prima qui ero un re adesso sono uno schiavo eccetera eccetera sono parole che ancora riecheggiano al giorno d'oggi se uno si sente colonizzato come successo alla storia di quell'isola per cui aveva questa doppia valenza che in qualche modo veniva a come dire a sommarsi e quindi ho immaginato una storia dove un gruppo di teatranti appunto di origine napoletana in un piccolo traghetto come succedeva una volta che quindi facevano le tournee o in treno in traghetto in mezzo agli altri passeggeri in questo caso sono insieme a dei camorristi che stanno proprio andando nell'isola per essere carcerati no si mischiano durante il naufragio e a quel punto il direttore del carcere che è un appassionato di teatro li costringe a recitare proprio la tempesta di shakespeare e lì gli attori e carcerati si devono cimentare con un testo diciamo nobile e tra le righe stanno in realtà un testo che parla di loro per cui in qualche modo incarna quello che loro di fatto stanno vivendo e succede una cosa interessante verso la metà del film ovviamente c'è proprio questo cambio di lingua cioè i carcerati non sono dei vari attori per cui hanno difficoltà a recitare quel testo classico e aulico come è nelle traduzioni solite diciamo pensando poi tornando indietro nel tempo dei testi shakespeareani e per cui praticamente convincono il capo comico anche con una sorta di ricatto ma insomma non scendo nel dettaglio a cambiare il testo in una lingua che è vicina a loro che è proprio quello che ha fatto eduardo cioè ha preso il testo shakespeareano l'ha in qualche modo reinterpretato verso una lingua che funzionasse sul palcoscenico cioè una lingua che possono dire gli attori per cui sembra più realistico una lingua che assomiglia alla loro vita e questa è stata diciamo l'operazione generale per cui la sinara ha avuto per me due enormi come dire punti di attrazione il punto storico legato appunto alla vicenda storica della stessa isola del carcere eccetera è un punto fantastico perché è legato in qualche modo a quel genere di isola che racconta shakespeare cioè un'isola terribile ma un'isola anche meravigliosa un'isola piena di suoni lì c'erano ancora cinghiali liberi cavalli liberi per cui uno poteva poco abitata per cui la notte senti i rumori dei cinghiali degli uccelli per cui aveva quella magia che che doveva avere l'isola di scelta da shakespeare esatto c'è qualche aneddoto che vuoi ricordare durante la lavorazione del film visto che in qualche modo eravate tutti sull'isola insomma tour group eccetera beh sì allora la prima considerazione è che un'isola paradossalmente è così senza nessun come dire senza nessuna pil dal punto di vista logistico perché non ci sono alberghi i telefoni prendono soltanto in una punta dell'isola è difficile quindi come dire stare rilassati noi abbiamo occupato le case del paesino che prima era occupato dai pescatori poi cacciati via poi erano diventate le case assegnate a ai guardiani insomma alle guardie carcerarie per cui vivevamo lì vivevamo in comunità non potevamo andar via dall'isola perché comunque mentre si fa il film poi non è che va in terraferma per un paio d'ore quindi abbiamo vissuto quella che era la forza e la magia dell'isola anche il disagio dell'isola però ha creato ci ha dato un grande vantaggio che è quello di sentirci comunità di sentirci tutti uniti e per cui in qualche modo il film in realtà paradossalmente era anche un po la nostra storia perché eravamo tutti chiusi lì chi andava a fare un giro in bicicletta finite le riprese chi invece faceva delle gare di cucina tra una casa e l'altra perché cucinavamo tra di noi non c'è non ci sono ristoranti non c'era niente quindi ci ha dato la comunità dal dal punto di vista degli aneddoti un po anche questo molto shakespeariano perché succede a calibano nella tempesta che a un certo punto viene punto dai pungiglioni degli insetti eccetera ecco noi non avevamo considerato che arrivando lì praticamente arrivavamo in una natura selvaggia per cui i primi giorni abbiamo preso le zecche quasi tutti col terrore anche nelle parti intime insomma col terrore di essere punti dalle zecche però abbiamo scoperto perché poi è venuta la guardia medica che ce le levava uno a uno con la puntina oggi le ho prese io eccetera e quindi c'è stata una sorta di ribellione anche della troupe no di di stare in un posto così ma avevamo la guardia medica con noi che ci seguiva e che ci ha spiegato subito che erano zecche autoctone per cui non si comportavano come le zecche della terraferma non portavano praticamente niente non facevano niente certo era meglio allevarle perché comunque per cui abbiamo vissuto situazioni diciamo di questo tipo ma in fin dei conti è stata una lavorazione molto felice perché poi è un paradiso per cui essere diciamo in un posto dove sei da solo ti regala appunto il senso di comunità nella troupe e soprattutto il senso di comunità negli attori perché non finisci le riprese l'attore va nell'albergo cinque stelle l'altro va di qua ognuno torna a casa come succede in una metropoli se uno fa il film in una metropoli tutta la troupe torna a casa sua e se l'attore viene da fuori sta in un albergo cinque stelle con l'autista no lì stavamo tutti insieme per cui questo livellamento che il film in qualche modo racconta tra le righe lo vivevamo ogni giorno e questo ha arricchito la capacità di pur avendo attori completamente diversi chi viene dal teatro chi è una star del cinema ha arricchito il loro modo di interagire per questo è stato un vantaggio per il film sicuramente nel cinema il film si conclude con la parte con la partenza della della troupe cinematografica e anche con con la partenza di miranda che poi la figlia della cioè la corrispondenza il nome di miranda della della tempesta cespiriana anche la corrispondenza con la figlia del direttore del carcere ok quindi veramente tipo la salvezza è scappare evadere in tutti i sensi non lo so in questo caso è un po preparata la partenza di miranda perché già il padre gli dice tu non puoi crescere in un posto dove non c'è niente quindi devi vedere il mondo devi conoscere altre cose per cui lei diciamo in qualche modo parte col viattico del padre poi con questo trucco teatrale il baule magico da cui escono i trucchi conserva il suo fidanzato ma c'è un piccolo dettaglio lì dentro perché sembra un gesto teatrale c'è anche il sorriso del capo comico verso di lei come dire ce l'abbiamo fatta e abbiamo salvato anche un innocente che è il figlio del camorrista e quindi in qualche modo i figli non devono subire per le colpe dei padri un po c'è c'è questa cosa tra le righe ma c'è uno sguardo di miranda all'orizzonte per cui lei probabilmente anche superato non è che scappa per il fidanzato scappa o va via per se stesse non è detto in quello sguardo all'isola che non ritornerà e paradossalmente lo sguardo è doppiato dal pastore dell'isola che vede questi che se ne vanno perché come dire sono millenni che vede arrivare stranieri nell'isola e andarsene o ritornare perché è un'isola è stata conquistata noi siamo come dire insomma sono passati gli spagnoli per 400 anni gli arabi i fenici i romani gli italiani eccetera eccetera per cui in qualche modo conserva quello che un'isola potrebbe essere cioè proprio un luogo come una porta aerea in mezzo al mare dove tante culture possono venire e ripartire arricchite proprio nello stare insieme quindi quello questo è il mio concetto di isola ecco non solo dei posti isolati in cui il mare gli crea una distanza ma il mare va visto come una possibilità di andare in tutte le direzioni mentre chi sta in mezzo a un continente più o meno le strade sono segnate in un'isola noi siamo più vicini all'africa che all'italia e più vicini alla francia attraverso la corsica che altre cose o alla spagna per cui insomma stare in mezzo al mare deve darci la sensazione che dobbiamo dobbiamo aprirci e parlare con tutte le culture che ci stanno intorno insomma perché solo una tutte tutte quante quelle che suonano intorno io la ringrazio per la disponibilità invito il pubblico a vedere il film e apprezzarlo come sì sì io io vi ringrazio a voi perché è sempre una possibilità far vedere il proprio film in giro per il mondo non vorrei avervi dato l'impressione di un film serioso e un film è una commedia ed è passata anche dal segno di eduardo per cui un po anche come diceva shakespeare noi siamo contenti perché viviamo dei sorrisi di chi ci viene siamo obbligati a farli sorridere insomma per cui buona visione a tutti grazie a presto arrivederci arrivederci a presto